Ci troviamo per Slow Wine in località Giasbana, San Floriano del Collio, in una delle zone più vocate della Dock, precisamente su una collina vicina al confine sloveno, le cui caratteristiche peculiari rappresentano un vero e proprio cru. Qui si trova la cantina Zuani, azienda fondata da Patrizia Felluga nei primi anni 2000. Siamo accolti dal figlio Antonio, a cui chiediamo di illustrarci brevemente le caratteristiche di questa bella realtà asiendale e la filosofia di vinificazione delle sue uve, capace di valorizzare perfettamente il particolare terroir e la tradizione enoica del luogo. Prego, signor Antonio. Grazie mille. Prima di tutto volevo ringraziarvi per la vostra visita, perché è sempre un piacere accogliervi e farvi conoscere. Siamo noi che ringraziamo la sua ospitalità. Grazie. Guardate, la nostra azienda nasce appunto, come ha detto, nel 2001 perché mia mamma si è innamorata di questa collina. Zuani, infatti, oltre a essere il nome dell'azienda, è anche un nome geografico, il nome della collina in cui ci troviamo, che per mia mamma è stato subito un luogo magico. Un amore, a prima vista. Ha sempre avuto quest'idea di fare qualcosa che avesse un forte legame con il territorio e quindi ha deciso nel 2001 di iniziare questo nuovo progetto con me e con mia sorella, proprio di valorizzare il territorio ed esprimere, proprio attraverso i vini, quello che è il carattere del territorio, che è il collio. Abbiamo, la caratteristica principale della nostra azienda è quella di produrre solo vini bianchi, che non serve dirlo, fanno parte della storia, della tradizione della nostra zona. Produciamo il collio bianco, l'azienda è nata con il collio bianco, due versioni, il collio bianco vigne che viene vinificato in acciaio e poi c'è la riserva che invece viene vinificata solamente in legno, a cui abbiamo aggiunto in tempi più recenti anche due monovari etali, il pino grigio e la ribolla gialla. Fin da subito quindi abbiamo deciso di fare poche cose, cercando di farle al meglio, pensando a quella che è la storia di questi luoghi e la tradizione. Cerchiamo quindi di fare vini eleganti, che esprimano appunto il carattere di queste terre e che abbiano anche una grande longevità. Una delle caratteristiche dei vini del collio, per come vediamo noi, per quella che la nostra idea dei vini del collio è proprio la longevità. Infatti, se posso consigliarvi, se avrete occasione di degustare i nostri vini, è molto interessante vedere appunto l'evoluzione che hanno in bottiglia, perché veramente con l'affinamento, e con l'invecchiamento in bottiglia emerge quello che è proprio il carattere del collio, quindi la sabidità, la liberalità, ed è molto interessante. Ringraziamo del consiglio e invitiamo i nostri lettori della nostra guida a venirvi a trovare in questo bel luogo, ma soprattutto in questa bella cantina. Grazie anche della vostra accoglienza e disponibilità. Grazie a te. Grazie, buona serata. Grazie.